L'organizzazione sostenibile è un'organizzazione che passa da un modello di business estrattivo a un modello di business rigenerativo. È un'organizzazione che evolve nel tempo per costruire valore, garantendo l'integrazione e l'equilibrio dell'interesse dei diversi stakeholder, promuovono l'organizzazione delle persone, impiega in modo efficiente le risorse e pone attenzione agli effetti che l'organizzazione stessa genera sul territorio e l'ambiente. È coerente, è snella, è flessibile, è digitale ed è equa ed inclusiva. La sostenibilità si incrocia con la gestione delle risorse umane perché questa è una trasformazione prevalentemente di mindset che si porta poi dietro anche trasformazione digitale e di tecnologia in generale. È una trasformazione che permea l'organizzazione partendo dal livello più alto, dal board, scendendo fino alle persone e andando a toccare in modo significativo la dimensione valoriale. Le persone restano nel primo asset, sono loro i veri promotori di questo processo di cambiamento e il ruolo di HR diventa ancora più centrale e strategico perché ha proprio il compito di favorire questo cambio di passo e di garantire la rigenerazione del capitale umano in termini di competenze, in termini di prestazione, in termini di engagement e di valorizzazione della diversità e dell'equità. ODM accompagna i propri clienti in questo percorso di trasformazione attraverso una rilettura della performance complessiva dell'organizzazione in termini sostenibili, attraverso l'implementazione di soluzioni organizzative e dei HR integrate in grado di valorizzare, ingaggiare e rendere le persone protagoniste delle strategie e dei valori aziendali. È un approccio basato sulla ricerca e sull'innovazione. È un approccio che sviluppa una consulenza su misura, progettata per la realizzazione e che ha un fine abilitativo verso i nostri clienti. Grazie a tutti.